è contenta di andare a vedere la scultura certo e tanto che siamo detto peccato questo lavoro messo qua per caso tanto bello mamma ma che cosa è l'arte per me secondo te e all'amore sempre perché se tu incontri qualche cosa di novità quell'altro la vuoi metterla su un quadro per non dimenticare intanto su un quadro vuoi esprimere questo sentimento questo novità che tu vedi così in giro e lo vuoi mettere subito su un quadro ma quindi i miei quadri parlano solo d'amore scusa parlano solo di tutto ciò che rimane del passato per te ecco che ritorna lo ridivi attraverso questi oggetti che tu trovi ah ok ho capito perché gli oggetti siccome fanno parte di un passato della persona io li faccio vivere mettere nei quadri e infatti un giornalista ha detto chi è che non vive del passato non ha presente non ce l'ho scritto in un pezzetto di carta a me sembra sempre uguale no 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 ma trovo diversa c'era tutta questa roba qua certo che c'era che c'è da vedere tantissimo di vestiti ma mi piace sempre tantissimo questa qua che standa arte come originalità secondo me è sempre uguale grazie a tutti è che devo stare è finito di mettere davanti alla macchina fotografica io scarto ecco e tu scarti sono felicissima è una giornata questa particolare per me non è che tu parli tu scarti io scarto e scarto la foto dobbiamo scartare allora questo è un selfie fotografico per tutti voi non è bene va bene ciao ciao